Tutti conoscono la bontà di Babbo Natale, non tutti sanno però che in realtà ognuno può letteralmente vestire i panni di Babbo Natale e fare del bene. Meno di 24 ore all'ora X della pedalata Baby Bike 2016, che parte domani 24 dicembre alle 2 del pomeriggio da Piazza Mercato a Tencarola di Selvazzano Dentro. Un giro in bicicletta dei Babbo Natale, sesta edizione a sostegno di Team for Children, associazione che si occupa dei bambini malati di tumore, obiettivo coinvolgere almeno 2000 persone. L'edizione eravamo in 13, 13 amici e da lì è nato tutto, la seconda edizione ci siamo autofinanziati, abbiamo comprato 150 vestiti e da lì un salire di quasi il 40-50% ogni edizione. Cosa bisogna fare per partecipare? È semplicissimo, basta acquistare il vestito da Babbo Bike sulle prevendite autorizzate, si trovano tutte sul sito www.babbibike.it o anche online direttamente e ritirarlo alla mattina. Il ricavato delle vendite dei costumi sarà dunque devoluto all'oncoematologia pediatrica di Padova con occhio di riguardo al progetto che sta interessando la fascia adolescenziale. Questi doni vengono in questo caso girati direttamente ai nostri adolescenti, stiamo pensando a loro, stiamo progettando per loro, anzi stiamo partendo ormai con i lavori a quest'area dedicata a questi ragazzi e in particolare proprio l'evento Babbo Bike servirà per l'allestimento. Abbiamo aperto una raccolta fondi perché vogliamo allestire al meglio quest'area Teen Zone per questi ragazzi.